Sì, è una loro scuola, eh! 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 Sì, era una radiceria, non c'era niente dentro? Non c'era niente, il fronte era chiuso con lo sprispetto, non è forzato! Sì, è una loro scuola, eh! 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 Ma sarà una sezione più grande a ferro di cavallo! Adesso vedete la galleria il Grezzo qui. Grezzo vuol dire scavata, messa in sicurezza, con del betoncino proiettato. perché in quel punto noi andiamo a presentare la galleria ferroviaria Grazie a tutti Sì, sono tutte micro ritardate e per cui riusciamo a continuare da qui a fare un risconto di 1,2 metri con il sgancio per conoscere la voce non sono i fori che lo dicevo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti